Nella sessione relativa alla spalla abbiamo parlato di diverse patologie che affliggono la spalla e su queste in quale si può intervenire tramite una metodica infiltrativa. Sono state prese in considerazione diverse patologie e diverse tecniche infiltrative. È stata sottolineata in particolar modo l'importanza della guida ecografica per poter effettuare tali tipi di infiltrazioni perché l'accuratezza effettuata a mano libera anche con i landmarks non è la stessa, infatti varia dal 30 al 40% quando è effettuata a mano libera, invece con la guida ecografica arriviamo ad un'accuratezza prossima al 100%. Sono state evidenziate a parte le patologie e le diverse tipi di infiltrazioni sia con corticosteroidi sia con corticosteroidi RP sia con acido ialuronico ed è stata presa in considerazione anche l'eventualità del trattamento chirurgico. Nella maggior parte dei casi tutte le patologie della spalla in prima istanza possono essere trattate in maniera conservativa, in secundis ovviamente entra in concetto l'ambito eventualmente ortopedico e eventualmente anche l'ambito chirurgico. È stata sviscerata anche la parte della letteratura scientifica, in cui sono state evidenziate le nuove tecniche e le evidenze scientifiche sul trattamento di tipo infiltrativo, è stato posto ovviamente i puntini sugli EI sul fatto che non solo la spalla non è composta soltanto dall'articolazione glenomerale ma anche da tutta una serie di strutture che molto frequentemente vanno in corso a infiammazione e è molto importante andare a considerare che non vi è soltanto una patologia molto spesso in un paziente ma vi è un overlap tra le diverse patologie e quindi non bisogna solo andarsi a focalizzare su una singola problematica ma andare a valutare il paziente tramite la clinica in toto, poi con successivo imaging per andare a portare al paziente il miglior trattamento possibile.